I wish I could touch the sky, reach the clouds and make them drift on by. Da oltre 40 anni noi di Coop siamo al fianco della scuola. L'abbiamo sostenuta in ogni cambiamento e continuiamo a farlo anche oggi. Insegnare è un'arte. Raccogli i buoni per la scuola Coop. Uno ogni 15 euro di spesa e regala alle scuole tanti materiali didattici e tecnologici per aiutarle a rinnovarsi sempre di più. Coop, una buona spesa, può cambiare il mondo.